Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft Siamo tornati nella Maullocraft, signori, alle mie spalle Vedete la casetta che abbiamo completato Ho completato tutta, signori, ho fatto tutte le bellissime ceste tutte a giro Ho fatto così, ho fatto ceste grosse sotto, ceste doppie sotto e ceste singole sopra Per dare un po' più di movimento, signori Allora, prima di partire col video, signori, io vi ricordo di iscrivervi al canale Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a questa serie Vi ricordo di iscrivervi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook Dove vi aggiorno su dove escono i video e su quando siamo in live Sia su questa piattaforma che su quella viola In descrizione trovate i link per poter fare tutte le azioni necessarie col canale Ovvero donazioni, abbonamenti, i link dei canali abbonati li trovate sempre in descrizione e così via Detto questo, signori, non perdiamo altro tempo e chiacchiere e partiamo con il video Allora, signori, cosa andiamo a fare in questo video? Intanto io mi poso tutto quanto l'ambaradan di roba che abbiamo Lo andiamo a posare tutto quanto Le casse le sistemeremo piano piano, signori Per ora lasciamo tutto quello che non ci serve Lo lasciamo tutto quanto Lasciamo anche una mappa del tesoro che è molto importante Ci teniamo solamente questa mela Che è molto utile in questo momento Perché è l'unica nostra fonte di cibo Là abbiamo molto poco grano che sta crescendo Piano piano sta crescendo ma molto poco Cosa facciamo in questo video? Dobbiamo fare due cose molto veloci Una Intanto recuperare altro legno Che albero strano Che albero brutto e strano Recuperiamo un altro po' di legno, signori Allora Recuperiamo un po' di legno che ci servirà per quello che dobbiamo andare a fare Recuperiamo questo Recuperiamo quest'altro legno di qua Dai è così Dopodiché Perché oggi, signori, andremo in miniera Oggi costruiremo l'ingresso della nostra miniera Poi off camera vedrò di iniziare a cercare dei materiali Cercherò di iniziare a fare uno più fattibile Questo Andiamo ad eliminare questo di qua E cercherò piano piano di cercare nuovi materiali Così possiamo continuare a migliorare le nostre situazioni Poi dovremmo anche andare in esplorazione Perché dobbiamo cercare le mucche, signori Dobbiamo cercare le pecore Dobbiamo cercare i maiali Dobbiamo cercare tante cose Allora Dove andremo a fare la nostra miniera? La nostra miniera, signori, la faremo qui Molto veloce, rapido e in dolore Faremo da questa parte Ci sarà la discesa Che faremo il tunnel dritto dritto Che scenderà a lungo fino a là sotto A livello 12 In cui ci sarà una pozzangra d'acqua Così scenderemo velocemente in miniera E da questa parte, invece, andremo a fare una risalita Tutta con le scale laterali Che ci farà tornare in superficie Eventualmente poi vediamo, signori Se ci inventiamo un metodo più veloce Per salire e scendere Ovviamente sarà ben accetto Detto questo, allora Andiamoci a fare Delle Degli strumenti in più Perché penso che con una sola palla Non riusciamo a fare Manco nulla Manco da lontano Allora 56 Intanto facciamo Qualche sticchettina in più Lo facciamo Perfetto E ci facciamo magari due pale, signori Altre due pale di riserva Dovrebbero Dovrebbero Bastarmi Almeno spero Mettiamo una qui E una qui Per fare tutti Gli scavi che a noi servono Perché facciamo Una botta di Sticchettini Perché dobbiamo fare Un sacco di gradini Signori 62 Vediamo quante scale Riusciamo a fare Con 62 24 scale Non mi bastano mai Nella vita Quindi facciamo così Direttamente Ok Continuiamo la costruzione Delle scale E io sbagliato Sono scemo Sono scemo Quando dici sei scemo Sì sono scemo Abbiamo 45 gradini Mi basteranno mai Nella vita Secondo voi Non lo so Però io qui Se non sbaglio Ho posato della legna Che avevo messo da parte Ok Ricopriamo gli sticchettini Che comunque mi servono Ok E ci andiamo a fare Altre scale Con questi sticchettini Che avevamo Ok Siamo 5 Altre 3 Altre 57 Allora Facciamo altri Toh Via Meglio abbondare Nella vita Abondas Abondatis Abundantum Meglio che mi restano Che poi Dobbiamo tornare In superficie A recuperarle Perfetto 63 63 Penso che mi basta Signore A meno che non siamo Proprio a livelli brutti Dovrebbero bastarmi Prima però Di andare alla ricerca Della nostra miniera Faccio un rapido taglio Perché dobbiamo fare Due cose Uno Dobbiamo recuperare Dei fiorellini blu Che ho visto Qua dietro Per andare a modificare Il colore Del nostro letto Perché nei commenti Dell'episodio numero 2 Mi ha detto Minecraft L'iscritto al canale Mi ha detto Che voleva Il letto Di colore blu Ora io Girando per il mondo Avevo trovato Eccoli la Eccoli la I fiorellini blu Quindi recuperiamo Questo bellissimo Fiorellino Tu sei stato prescelto E abbiamo Il fiorellino blu E poi andando In quella direzione Se non sbaglio Ci sono gli alberi Di acacia Quindi Andiamo anche A recuperare Qualche albero Di acacia E soprattutto Qualche sapling Di acacia Dopodiché Lo piantiamo Nel nostro mondo E poi partiamo Per il nostro Tanta roba Signori Ma non è questo Il giorno Di questa esplodazione Oggi dobbiamo Fare la miniera Signori Un giorno Ci scendiamo Lì Ma non oggi Ok signori Allora Piantiamo un poco Di alberi di acacia Così come capita Ne mettiamo Uno qua Uno qua Questi li raccogliamo Che sono i sapling Degli alberi di prima E un altro Andiamo a mettere qua Perfetto Così Avremo l'acacia Anche vicino a casa Allora io non ho intenzione Di fare 8000 Costruzioni Come l'altra volta 8000 tipi di alberi Questo non è ancora Del tutto fiorito Sì è fiorito Non ho intenzione Di fare tante costruzioni Come le altre volte Signori Tanti tipi di alberi Diverse Tanti tipi di cose Strane Ma ci terremo molto Sul semplice Quindi questi due Pezzi di alberi Penso che mi basteranno Queste due tipologie Di alberi Penso che mi basteranno Per tutte le costruzioni Che dovremo andare a fare La caccia qua vicino È buona E così Sfrutteremo questa Detto questo Andiamo velocemente A casa Cambiamo il letto Il nostro bellissimo Lettuccio Lo facciamo diventare Da bianco Che mi sa Proprio da ospedale Signori Lo trasformiamo In un bellissimo Lettuccio blu Sempre che con questa Si possa fare Il colorante blu Perfetto Ok Abbiamo il nostro letto blu Forse non l'avamo mai fatto In una delle nostre serie Il letto blu Il letto blu Forse non l'avamo mai fatto Non mi ricordo Allora Posiamo tutto quello che non ci serve Posiamo questo Posiamo questo Posiamo questo Ci teniamo semplicemente La mela Non abbiamo altro cibo Signori Dovremmo cuocere questo pollo Ma non abbiamo come cuocerlo Però abbiamo tre Un poco di grano Dai Facciamoci un panino velocemente Così ce lo portiamo in miniera Sperando che Ok Sia una buona fonte di cibo Detto questo Signori Andiamo Iniziamo a scavare Fino ad arrivare al livello 13 Sperando di non morire male Che magari c'è qualcosa Di nascosto sotto E noi Rimaniamo assolutamente fregati Allora Iniziamo a scavare E a piazzare le scale C'è la da piazzi La scala Perfetto Allora Però dobbiamo fare una cosa Prendi questa paletta La metti qua Così io faccio velocemente Scavo Ottimo Perfetto Bella così signori Forse devo portarmi anche Un piccone un poco meglio Forse devo portarmi un piccone Un poco meglio Decisamente di sì Penso che questo piccone di pietra Di legno durerà molto poco Riesce a scendere Ok Inizia la discesa signori Inizia la discesa Dai così Dai così E continuiamo a scendere Ora vediamo a che livello siamo E continuiamo a scendere Ok signori Siamo arrivati al livello 12 Ve lo certifico Facendo vedere le coordinate Siamo arrivati al livello 12 Quindi siamo in zona In piena zona Minerali praticamente In piena zona diamanti Ora Fatto questo Noi dobbiamo allargarci Di qua Di 5 1 2 E mi si è rotta La piccozza Perfetto 2 3 4 Fatemi vedere I giusti calcoli Allora 1 2 3 Perché era 1 2 3 4 Ok L'altro tunnel dovrebbe arrivare qua Secondo un'antica leggenda L'altro tunnel dovrebbe arrivare qua A questo punto signori Noi ci allarghiamo Di un ulteriore Di un ulteriore spunto Da questa parte Così 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 E ci allarghiamo Facciamo la nostra base Piano piano Nella piccola apertura Apriamo tutto quanto qua Apriamo tutto quanto qua Lo facciamo bello Comodo Mi sembra giusto Oh finalmente un po' di carbone Signori possiamo farci delle torce Finalmente possiamo tornare in superficie Allora intanto allarghiamo Piano piano qua Ricordiamo questo carbone Che ce ne sarà Un'infinità Lo spero almeno per me Sì Ok Abbiamo il carbone Signori Abbiamo il carbone Stiamo facendo tanti po' di progressi Oggi Dai Abbiamo trovato il ferro Abbiamo trovato il carbone Possiamo fare delle torce Posso farmi finalmente Anche delle lanterne Per casa mia Che lo andiamo a fare Prima di chiudere questo video E dai così Dai 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 Recuperiamo tutto questo carbone Ottimo ottimo Questa città D'altro città anche l'esperienza Giusto per andare avanti Mamma mia Recupera Recupera Via via Signori Non ci posso credere Cioè stavo ancora recuperando Il carbone Signori Abbiamo trovato i diamanti Spettacolo Spettacolo Signori Diamantozzi per noi Sono due Due Dai Dammene Magari tre Dai dai Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego No solamente due Signori Due diamantozzi I primi diamantozzi Alla serie Che non so se prendere Signori Li prendiamo Non lo so Ditemelo nei commenti Però io li lascio qua Però io li lascio qua Potremmo aspettare un piccone Con fortuna Se no prenderceli direttamente Come i primi diamanti Della serie Allora Qui ho trovato altro ferro Che io continuo a prendere E va bene Allora signori Aspettate un attimo Io volevo chiuderla Tutta questa zona qua Ma non possiamo chiuderla Perché se no Io i diamantozzi Non li troverò mai più Allora Da dove sono sceso Io sono sceso da qua Allora scusate Fatemi fare una scaletta Bella bellina Ok Di qua E poi Questo Andiamo Ad aprire Di qua Ok Questa apertura di qua Per ora la lasciamo Signori Perché ci sono i diamantozzi Nel prossimo video Mi fate sapere Se dobbiamo continuare A prendere i diamanti Oppure no E tornate il sole Forse ancora no Però noi continuiamo A Ritorniamo su Signori Perché abbiamo trovato Una botta del roba Speriamo che non ci siano Mostri e contromostri Ma se è notte Ci sarà Il mondo Praticamente Che è pronto lì Ad aspettarci Vediamo cosa succede Salendo in superficie Fatto questo Scendiamo di qua Mentre Dobbiamo scendere Fino al livello 12 Dai dai Scendi Scendi No questa si rompe così Scendiamo fino al livello 12 Signori Ci vediamo dopo Ok signori Siamo arrivati Al livello 12 Perfettamente Siamo qui Di conseguenza Andiamo a levare Quest'altro buco Di qua E ci andiamo a mettere L'acqua Perfetto Ora allarghiamo Come abbiamo allargato Da quel lato Che abbiamo allargato Uno di qua Ok Altezza Quanto abbiamo fatto Altezza 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 Tre almeno Infatti Confermo Confermo Allarghiamo un attino Questa zona Di qua Quando si dice La miniera La miniera Allo stato puro Miniera Allo stato puro Signori miei Miniera Allo stato puro Scendiamo proprio In miniera Allarga 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 Detto questo Signori Vediamo un attino Se la mia idea Funziona E poi Per questo video Ci fermiamo Qui Ok Signori Siamo risaliti In superficie Di qua Si sale Di qua Si scende Vediamo se Non moriamo male Ma la mia idea Funziona Ci proviamo Scendiamo in miniera Velocemente Yes Signori In due secondi Siamo in miniera E tramite la scala Riusciamo a risalire Piano piano In superficie Se avete delle idee Signori Io so Che esistono Il discorso Dei carrellini Ma è troppo lunga Mi piacerebbe Farlo con l'acqua Ma quello Lo faremo Quando potremo Prenderla Se non sbaglio Che ci dà La spinta A salire Verso l'altro Quindi Ancora un bel po' Dovremmo Faticare In questa maniera Molto semplice Detto questo Signori Io vi ringrazio Per questo video Vi ringrazio Per i like Per i commenti Per i suggerimenti E per il supporto Noi ci vediamo Sempre qui Sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao Ciao